partiti Shadow Boboline dall'esterno si porta a condurre nei confronti di Spito Fall con all'esterno libera di Renaccio quindi Petra Bianca che lascia in coda Amelin Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Shadow Boboline al comando libera di Renaccio all'esterno di Spito Fall quindi all'esterno ancora Petra Bianca che lascia in coda Amelin posizioni pressoché invariate all'imbocco della retta di arrivo con Shadow Boboline al comando libera di Renaccio al suo esterno lungo la corda in cerca di spazio Spito Fall mentre più a centropista in progressione Petra Bianca ed in coda Amelin siamo a 400 dal palo Shadow Boboline in vantaggio lungo la corda non cerca del barco Spito Fall mentre a centropista è passata anche Petra Bianca nel tratto finale Shadow Boboline in vantaggio lungo la corda si è aperto il barco per Spito Fall che ora sta scattando all'interno mentre a largo finisce bene anche Amelin nel finale non ha problemi Spirit of Fall che si impone mentre per il posto d'onore Amelin a Pariglia sul palo Shadow Boboline andiamo a vedere le immagini con Carletto Fiocchi in sella Spito Fall numero 8 dello schieramento a bersaglio in questa quarta corsa di Napoli al posto d'onore all'esterno il numero 1 Amelin sul palo a ragione del 7 di Shadow Boboline quindi 8-1-7 il probabile e ufficioso arrivo della quarta di Napoli